Progetto Fiducia, acronimo di Famiglie Immigrate, Donne Unite nei Centri per l'Inclusione Lavorativa ANOLF, un'iniziativa che si rivolge alle donne immigrate, un progetto di integrazione e di inclusione sociale della durata di 24 mesi. Il progetto Fiducia è un progetto finanziato dalla Fondazione per il Sud, con partner regionale l'ANOLF, che a cascata viene trasmesso in tutte le ANOLF provinciali. Il progetto prevede la formazione di donne immigrate per l'assistenza domiciliare e familiare, giusto per capirci l'abbadante del momento. Questo obiettivo è intanto favorire e cercare di creare posti di lavoro per queste donne immigrate e non cercare di isolarle e di immaginarle, cosa a cui l'ANOLF guarda sempre con attenzione, quella della integrazione. Ma anche per offrire personale qualificato. Noi vogliamo garantire professionalità alle famiglie che si dovranno rivolgere a noi. Noi dopo che avremo preparato queste figure si creerà un ALBO regionale d'accordo con l'assessorato regionale della famiglia, un ALBO regionale dove si potrà attingere a questo personale. In questo progetto sono impegnate due figure molto importanti, che sono i nostri mediatori culturali, Inde Farah e Tariq Marfocchi. Due figure molto importanti per la nostra struttura, in quanto sono loro che hanno il contatto diretto con questa gente, loro che hanno il termometro di misura del bisogno di questa gente. Quindi loro saranno molto preziosi anche nella selezione di queste persone. Per le donne coinvolte sul territorio regionale comincerà una fase di formazione per l'assistenza domiciliare e familiare. Verrà anche istituito un ALBO regionale in cui saranno inserite le figure professionali e sempre nell'ambito del progetto, attivati i 12 sportelli in tutta la regione. Il progetto Fiducia rappresenta una delle tante progettualità che l'ANOLF, insieme alla CISL, ha portato avanti e sta portando avanti sul territorio di Caltanissetta. Ovviamente l'obiettivo fondamentale è quello di favorire l'accoglienza e l'integrazione di tutti i soggetti stranieri residenti sul territorio. Quando parliamo di integrazione, chiaramente noi parliamo di buona integrazione, quindi di un'integrazione di natura socio-economica che deve favorire l'inclusione sociale attraverso il lavoro, contrastando qualunque forma di lavoro nero. Questi sono gli obiettivi prioritari che stiamo cercando di perseguire anche attraverso l'attivazione dei 12 sportelli che verranno aperti su tutto il territorio regionale.